Benvenuti a questo video speciale dedicato all'importante insegnamento buddista del perdono e della guarigione interiore. In questa narrazione, esploreremo una storia toccante che illustra come il potere del perdono possa trasformare profondamente le nostre vite e portare la pace al nostro cuore. Nel buddismo, il perdono non è solo un atto di clemenza, ma un cammino di trasformazione personale che ci libera dai legami dell'odio e del rancore. La storia che vi presenteremo dimostra come il perdono possa essere un dono prezioso che apre le porte alla guarigione e all'amore compassionevole. Preparatevi ad immergervi in questa storia coinvolgente, guidati dalle parole di un saggio monaco che condivide la saggezza antica dei maestri buddisti. Attraverso questa storia, speriamo che troverete ispirazione nel percorso di un giovane uomo che ha affrontato l'oscurità del suo cuore per abbracciare la luce del perdono. Senza ulteriori indugi, lasciate che la narrazione cominci e vi conduca attraverso le profonde lezioni del perdono nel contesto del buddismo. Buona visione! Nel cuore di una piccola città buddista, viveva un anziano monaco di nome Kavi. Era conosciuto per la sua saggezza, compassione e la sua abilità nel trasmettere i principi buddhisti attraverso le storie. Ogni sera, i fedeli si radunavano intorno a lui per ascoltare le sue parole di ispirazione. Un giorno, un giovane uomo di nome Raj, gravemente ferito e consumato dall'odio, si avvicinò a Kavi. Raj era stato coinvolto in un conflitto violento che aveva portato alla morte di suo padre. La rabbia e il dolore lo avevano avvolto, impedendogli di trovare pace. Raj supplicò Kavi di aiutarlo a liberarsi dal peso insostenibile del suo odio. Kavi ascoltò attentamente il racconto di Raj, e poi gli disse, figlio, l'odio è una catena che ci tiene imprigionati. Nel buddismo, insegniamo l'importanza del perdono per liberare noi stessi e gli altri da queste catene. Così, Kavi iniziò a raccontare una storia. C'era una volta una giovane donna di nome Suri. Aveva trascorso anni in lotta con la sua famiglia a causa di divergenze e incomprensioni. Un giorno, mentre meditava nel tempio, Suri ricevette una visione di suo padre defunto. Egli era circondato da un'aura di luce e pace. In quell'istante, Suri comprese che portare rancore verso suo padre non avrebbe portato alcuna pace né a lei né a lui nell'aldilà. Decise di intraprendere un viaggio interiore per trovare il perdono. Durante il suo cammino, incontrò un saggio monaco che le disse, il perdono non è debolezza, ma un atto di coraggio. Liberati dal tuo passato per abbracciare il presente. Con il tempo, Suri si aprì al perdono. Cominciò a praticare la meditazione della compassione e a inviare pensieri positivi verso suo padre. Man mano che rilasciava il suo rancore, Suri sentì che il suo cuore si alleggeriva e la sua anima si risanava. Alla fine, sentì che suo padre l'aveva perdonata dall'aldilà. Kavi guardò Raj e disse, caro Raj, così come Suri ha trovato guarigione attraverso il perdono, anche tu puoi liberare il tuo cuore dall'odio. Non sarà facile, ma il perdono ti permetterà di rompere le catene che ti tengono prigioniero. Le parole di Kavi colpirono il cuore di Raj. Iniziò a praticare la meditazione e a inviare pensieri positivi verso suo padre e tutte le persone coinvolte nel conflitto. Man mano che si apriva il perdono, Raj sperimentava una profonda trasformazione interiore. L'odio pian piano si trasformava in compassione. Con il tempo, Raj si ritrovò a condividere la storia della sua trasformazione con gli altri. La sua storia ispirò molti a intraprendere il cammino del perdono e della guarigione interiore. E così, nella piccola città buddista, la storia di Raj e del suo percorso verso il perdono si diffuse come un messaggio di speranza e trasformazione. La lezione di Kavi sul potere del perdono aveva toccato il cuore di Raj e di tutti coloro che ascoltavano la storia, dimostrando che il perdono era veramente un dono che poteva portare guarigione e pace profonda nelle vite di chi lo praticava. E così, cari amici, ci avviciniamo alla conclusione di questa toccante storia di perdono e guarigione nel contesto buddista. Speriamo che abbiate tratto ispirazione da questo racconto e che le lezioni di compassione e trasformazione abbiano toccato i vostri cuori. Se questa storia vi ha toccato, vi chiediamo gentilmente di dimostrare il vostro apprezzamento lasciando un mi piace a questo video. Il vostro supporto è fondamentale per far sì che queste importanti narrazioni continuino a raggiungere molte altre persone che cercano ispirazione e riflessione. Inoltre, vi invitiamo ad esprimere i vostri pensieri nei commenti qui sotto. Condividete le vostre riflessioni sul perdono e sulla guarigione interiore, oppure raccontateci delle vostre esperienze personali legate a questi temi. La condivisione delle vostre storie può essere un prezioso regalo per tutta la comunità che si nutre della saggezza buddista. Se desiderate continuare a ricevere contenuti basati sulla saggezza buddista e su temi di crescita personale, vi incoraggiamo calorosamente a iscrivervi al nostro canale. Insieme, possiamo coltivare un ambiente di apprendimento e condivisione che ci aiuta a crescere spiritualmente e a sviluppare una mente più compassionevole. Ricordate sempre che il percorso buddista ci insegna a coltivare la gentilezza, la compassione e la saggezza in ogni aspetto della nostra vita. Che le lezioni di perdono e guarigione possano continuare a risuonare nei vostri cuori mentre intraprendete il vostro cammino. Vi ringraziamo di cuore per aver trascorso questo tempo con noi e vi auguriamo pace e serenità lungo il vostro percorso. Namaste. Grazie a tutti.